Benvenuti su Gossip Mania TV. Isola dei famosi ha tutto caos, Vladimir Luxuria Shock e Pier Silvio Berlusconi stoppa Oggi niente diretta TV. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. In occasione della giornata della liberazione, oggi giovedì 25 aprile 2024, anche il reality show L'Isola dei famosi si ferma, concedendo ai telespettatori una pausa dalla messa in onda. Questo cambiamento nel palinsesto di Canale 5 include la sostituzione della puntata dell'Isola dei famosi con la soap turca Terra Amara, che sarà trasmessa con tre episodi consecutivi. La decisione di non trasmettere L'Isola dei famosi oggi potrebbe essere motivata dalla volontà di offrire ai telespettatori l'opportunità di godersi la festività senza l'ansia di perdere una puntata importante dello show. È una scelta comprensibile, considerando che il giorno della liberazione è un evento di grande importanza nazionale. Il reality show L'Isola dei famosi, condotto da Vladimir Luxuria, ha registrato un calo di audience nelle ultime puntate, e questo potrebbe aver influito sulla decisione di non trasmettere oggi. L'incertezza riguardo al futuro dello show è palpabile, e si ipotizza la possibilità di ridurre gli appuntamenti settimanali da due puntate a una sola, probabilmente programmata per il lunedì. Un cambiamento simile è già avvenuto con il grande fratello di Pier Silvio Berlusconi, che ha dimostrato di poter adattare la programmazione in corso d'opera per ottenere risultati migliori. Nel frattempo, i colpi di scena all'Isola dei famosi non mancano mai, e l'episodio più recente ha visto protagonisti Pietro Fanelli, il poeta, e la ballerina professionista Greta Zuccarello. Durante una discussione sulla divisione del cibo vinto, Pietro ha suscitato l'ira dei compagni per il suo atteggiamento egoistico riguardo alla pasta conquistata. La lite che ne è seguita ha portato alla distribuzione del cibo in modo diverso da quanto previsto. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.